Altro, andiamoci a fare un pullettino, un pullettino rapido, tanto sono fiducioso anche del fatto che arriva Bahamut, sono fiducioso che arriva Bahamut e quindi altre 30k di gemme le rifaccio easy, quindi non è un problema. Vediamo intanto come vanno sti ticket, magari me ne esco con i ticket, ma la vedo difficile, perché ne ho buttati già 200 e non ci ho concluso niente, quindi non lo so, la vedo difficile. Culone, no ti prego, un'altra best no, ti scongiuro, basta, basta, veramente, non la sopporterei, veramente, non la sopporterei. Cioè con Ardyn no, con Wall sì. Eh, 35 di Edgar, cioè Edgar me lo sono maxato praticamente. E fammelo un connecting, porca buttana, un connecting tutto strano, no, niente, zero. Non ci credo, un'altra ex di Edgar. Oh, mi sono maxato la ex di Edgar. Così. Cioè quante probabilità ho di aver preso non so quanti Edgar? Cioè è pazzesca sta cosa. È allucinante. È allucinante. Oh signore. Dovrei prendere il santino? Sì, che viola. No, ma a me Edgar assolutamente no, me lo venderei per Power Stone, a direrti la verità. Forse il santino può aiutarmi? Non lo so, vediamo. Allora. Innanzitutto facciamo capire al gioco ciò che mi interessa, ovvero LD ed ex. Curasame, giusto? Quindi LD, ex. No Burst, no Safer, no Edgar, no. Non farmi pentire di buttare ste gemme. Allora, potrei spendere 20k più o meno? Cioè arrivare a 70k di gemme in modo tale che poi mi tengo qualche gemma bonus qualora dovessi pullare anche su Gladio. Vorrei, vorrei spendere 20k gemme proprio così. Proprio per il piacere del pullare. Ma vorrei spendere di meno in realtà. Vorrei spendere di meno. Allora, non guardiamo il connecting, ok? Appena sento la orb che carica, orb azzurra, ecco, orb azzurra. Niente, sto banner per me è maledetto. Io non ci dovevo buttare neanche una gemma. Purtroppo ci sono alcuni banner che sono chiusi. Ci sono banner che sono chiusi e io mi ostino a pullare. Quando invece in realtà non dovrei pullarci. Ecco. Ale. Power stone su power stone. Allora, non guardiamo. Oh! Orbo dorata è già qualcosa. Orbo dorata è qualcosa. Però spero che non sia l'ex di Edgar perché veramente ex di Edgar anche no. Mi bastano ld ed ex. Dopodiché... No. 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 Le ultime parole famose. Le ultime parole famose. Cioè, l'importante è che non sia Edgar, ho detto. Ho detto l'importante è che non sia Edgar. Eh, orb azzurra. Vabbè, ciao. 9. Madonna, monora addirittura questa. Madonna che schifo. Va bene. Ultima... Ultima multi. E basta. Perché veramente sto banner è... Vabbè, sì, vaffanculo. Niente, sto banner per me è inutile. Ho letteralmente bruciato ste genne. Proprio letteralmente prese e buttate nel cesso. Cioè, dai, ma che cazzo è un altro monoro? Cioè, ma veramente? Cioè, assurdo. Assurdo. Cioè, un altro monoro mi è uscito. Un altro monoro. Vabbè. Niente. Vuol dire che... Kurasame... Kurasame non deve stare tra le mie fila. Kurasame non deve stare tra le mie fila. Cioè, due monoro mi sono uscite. Due monoro. Due monoro. Va bene, dai, forza. Facciamo l'ultimo così, a bruciapelo. Senza... Senza pensare. No, vabbè. Basta. Ok, lasciamo perdere. L'ho voluto fare così. Basta, non ci spendo più niente. Ho chiuso. Volevo fregare il gioco facendo così, a bruciapelo senza che se ne rendesse conto. Niente, mi ha fregato lo stesso. Ok, un'altra monoro. No. A meno. Eh, dai. Bravo. Ok, a posto. Va bene. Basta, fine. Abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso. Basta. 120. Basta. Lo lascio così perché in realtà lo voglio lasciare così. Fino all'ultimo. Poi male che vada mi prendo la power stone. Però per ora va bene così. Così se calcolo con le gemme che faccio di Bahamut. vado a 95k. Giusto? Sì perché sono 30k. Quindi teoricamente sono a 95. 95. Sì, 95k. Ok, va bene. Va bene. L'ultima, basta. L'ultima. No, mi sta venendo il pull compulsivo. No, un'altra corba azzurra. No, basta, basta. No, no, basta, 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 basta. Ok. Ci ho voluto provare, basta. Basta, basta. Il banner è chiuso. Basta. Va bene. Ci abbiamo provato. E abbiamo fallito. Madonna, pure monoro. Pure monoro. pure monoro. Anche se in realtà io vorrei andare al libro ormai. Cioè a me non mi guadagno il libro. E che per il libro dovrei fare quante altre tre, giusto? Cioè io alla fine sono a posto. Cioè a me servono soltanto quelle gemme da tenere da parte. Quindi posso spendere in realtà. Perché i Burst Token ce li ho. Quindi non ho motivo di preoccuparmi. Non ho motivo di preoccuparmi. In realtà non ho motivo di preoccuparmi. Perché i Token ce li ho. Quindi basta che poi con quelle di Bamuth rimango pari. Ho qualcosina in più. Va bene. Si può fare, dai. Ci provo. Tanto ormai mi interessa. Il gioco è fatto per essere... Per essere spremuto. Da Gladio però ci vado... Purtroppo ci vado solo di Ticket. Va bene, dai. Andiamo fino al libro. Ok. Orbo dorata. Dai. Orbo dorata. Dammi X e delle D insieme. E va bene. Ci guadagniamo tutti. Ci guadagniamo tutti. No. 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 Ma porca miseria. Cioè ora mi è uscito Safer. Ora mi è uscito Safer. Va bene. Orba azzurra di nuovo. Madonna mia. Un massacro. Va bene. Mi faccio il libro e ame. Niente. Kurasame non vuole fare parte del mio team. Non vuole fare parte del mio team. Che è un'altra monoro. Non me lo dire. Dai. Ma che palle. Madonna mia. C'è veramente un'altra monoro? C'è veramente che schifo. Oh. Finalmente orbo dorato. Dai. Ti prego. Dammi sta cazzo di LD. Dai. Così almeno mi prendo il libro e ame. Eh vabbè. Non ci credo. No. Veramente è assurdo. È assurdo. È assurdo. È assurdo. È assurdo. La cosa. La cosa che mi fa rosicare. La cosa che mi fa rosicare. È che io non ho trovato. Né LD. E né X. Cioè io rischierei. Teoricamente. Se dovessi andare al P. Di. Perché se io dovessi andare al P. Di. Cioè rischierei di non trovare una delle due. Cioè è quello il problema. Il problema è quello. Il problema è quello. Perché se io anche volessi andare al P. Di. Cioè rischio veramente di non trovare una delle due. Sono fottuto. Sono fottuto. Cioè devo sperare di trovarlo. È che però Kurasama è figo. È buono come personaggio. Sono indeciso. Pita. Ti faccio da contabile. Per 25k io farei Pita. Ormai sei lì. Basta. Lascia stare. Schippa. Niente. Siamo divisi. Mi fermerei. Vai. Fermati. Vabbè. Di durare. Sicuramente durerà un bel po'. Col fatto di possedere. I danni maggiorati. È un ottimo supporto. Vabbè. Kurasama mi piace. Sì. Va bene. Però dobbiamo anche. Diciamo pensare con la testa. Cioè bisogna anche giocare un po' con la testa. Vabbè. In realtà così non sarebbero sprecate. Perché prenderei il libro. È di elemento ghiaccio. E vabbè. Non me ne frega se è di elemento ghiaccio. Non è quello il problema. Eh. Questo è anche vero. Devo trovare o la X o la LD. In queste 25k. Meglio 75 per Kurasama che 50 per Edgar. Questo è vero. Questo è vero. Questo è anche vero. O Realm. Questo è anche vero. Vai dove ti porta il cuore. No. A me è piaciuto il commento invece. Meglio 75 per Kurasama che 50 per Edgar. È vero. Perché io così praticamente ho fatto Edgar. Cioè è come se avessi pitato Edgar. Tra virgolette. Cioè guarda. Quattro X di Edgar. Più. Più due o tre. Quante ne avevo trovate? Tre oggi. Perché poi le unite. Poi le avevo unite. Allora. Se ne spendo 25. Arrivo a 20. Più le 30. Che faccio da Bamut. 40. Perché adesso i personaggi sono di più. Quindi non sono più 30. Sono qualcosina in più. Forse 40k. Arriverei a 60. Gladio lo faccio soltanto di ticket. Che li prendo tutti da Bamut. Quindi in realtà. In realtà potrei benissimo. Potrei benissimo anche andare a pit. Però. Il problema. Il problema. È. Che se non trovo X o LD. In questi 300 pit token. È un casino. Cioè dovrei riaccumulare i token X. Tecnicamente. Per. Per prendere. Per prendere la X. Se non la trovo. No. X token. Non ne ho. Questo sarebbe forse il problema. Va bene. Dai. Speriamo di trovare X. Ok. Orbo dorata. Ti prego. Non essere. Edgar. Dammi LD. D o X. Preferisco LD in realtà. Preferisco la LD. Però madonna. Che è un altro monoro. Cioè che. La X. Ok. 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 Adesso. Possiamo pullare. Con più facilità. Perché. Qualora. Dovessi andare a Piti. Mi prendo la LD. Non è un problema. Andiamo. Via. Va bene. Adesso sono molto più. Sereno io stesso. Adesso. Ok. Via. Via. Andiamo. Sono. Sono tranquillo. Qualora dovessi prendere all'ultimo l'LD. Mi va bene lo stesso. Perché mi prendo un libro. E una power stone. Easy. Non è un problema. Non è un problema. Anche se dovessi trovarla alla fine. Va bene. Ripeto. Il mio obiettivo. Sarà Sephiroth. Sephiroth. Lo prendo con i token. e best. Quelli già sono. Sono. Matematicamente. Conservati. Quelli. Quelli sono già messi da parte. Madonna. Monoro. Madonna. Ma che banner di merda. Comunque. Cioè. Veramente. Per me. Un banner di merda. Proprio. Un banner di merda. Per me. Veramente. Un banner. Orribile. Cioè. È difficile. Che comunque. Sia andato a pity. Ultimamente. A 280. Tra l'altro. A 280. A 280. A 280. Va bene. A sto punto. Mi fermo lo stesso. Inutile. Anche se. Cioè. 5k. Non le spreco. Mi prendo il libro. 80p di token. Rimangono lì. E arrivederci. Tontui.